La Coppa dei Campioni viene consigliata da Fulvio E attenzione 1, 2, 3, 4 Attenzione, attenzione Attiva questa Coppa questa Coppa ti vada da Vodice il Vodice il Vodice l'avete di San Vodice il Vodice l'avete di San Vodice l'avete di San Vodice il Vodice Grazie a tutti i nostri spagnoli e a tutti i nostri spagnoli e a tutti i nostri spagnoli.